Ciao a tutte persone glicerose, scusate la mia voce ma sono influenzata da far paura Ho anche la febbre, per cui se sentite qualche tosse starnuto sono io Però vabbè Questo nuovo video è lo Shadowhunters Book Tag L'hanno fatto in tantissimi Io sono una fan di Shadowhunters, quindi perché non lo devo fare? Quindi iniziamo, le domande le ho scritte Qui Per chi lo volesse fare magari non so se ne viene ma vabbè Comunque le leggo per cui Allora La prima domanda dice Qual è la tua serie preferita? O The Infernal Devices o The Mortal Instruments? Quindi la prima o il Perquel? Allora, decisamente The Mortal Instruments Perché The Infernal Devices in alcuni punti l'ho trovata molto noioso E quindi sì, The Infernal Devices Cioè The Infernal Devices no, ma The Mortal Instruments è la mia preferita Jace o Simon? Senza dubbio Jace Simon è un personaggio che non mi piace tanto Lo so, sono strana ma non è che mi piace tanto come personaggio Will o Gem? Gem, come ho detto in altri video mi sembra Gem in video delle risposte Gem è il mio preferito tra i personaggi maschili Non è proprio il mio primo personaggio preferito ma è tra i miei personaggi preferiti Perché lo adoro Chi è il tuo protagonista preferito? Tra Clary e Tess Decisamente Clary Tess può anche non esistere per me Quindi sì Gem con Will Gli Aaron Stiles Spaccano Chi è il tuo cattivo preferito? Valentine Morgerson Poverino È morto Però vabbè È il mio preferito in assoluto Valentine Qual è il tuo libro preferito? Allora Città di Ossa Perché ti introduce Nel mondo di Shadowhunters E Le Cronache di Magnus Bane Che ce l'ho nella libreria Non mi va di tirarlo fuori Qual è il tuo personaggio preferito? Magnus Bane È il top del top Questa domanda è facilissima Per me Magnus Bane Forever Qual è la tua copertina preferita? Ripeto Questa qua Delle Città di Ossa Perché c'è Lily Collins E Jamie Cammie Bauer E quindi mi piace un sacco Rispetto a tutte le altre quei graffi È la più bella Nel mondo di Shadowhunters Cosa vorresti essere Tra una fata Un vampiro Un lupo mannaro Uno stregone O strega O una nefili Sono indecisa Mi piacerebbe essere Nefili Per combattere i demoni Con le spade angeliche Ma mi piacerebbe essere Anche O un lupo mannaro O uno stregone Perché stregone Perché amo Magnus Bane Tutto il resto E lupo mannaro Perché da sempre Mi sono sembrati Diciamo Le creature fantasy Più affascinanti Anche tipo In altri libri Che ho sui lupi mannari Io adoro i lupi mannari Sì Ho tantissimi libri Sui lupi mannari La batteria scarica Scusate Un momento di pausa L'ultima domanda è E quindi sono indecisa Tra nefili Stregone E l'uomo mannaro Quali sono le tue Che preferite La mia otp E la malek Non c'è niente Meglio della malek Poi c'è la kleiss Lieron Stiles Do whale Più gem E credo Bassa Perché la sizzi Mi piace itzi Ma non mi piace simon Quindi Non saprei Però la mia otp E la malek Bene Il video tag Finisce qui Spero che vi sia piaciuto E scusatemi ancora Per la voce Per la pausa Che ho fatto